Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un video molto speciale. Perché? Dove siamo? Nel parrucchiare, noi siamo a casa nostra. E quindi cosa farai oggi? Mi sdraierò i capelli insieme a mio padre, il mio nome è Alessandro. Allora andiamo, vai! Nel parrucchiare, noi siamo a casa nostra. Allora andiamo. Tu puoi colare? No. 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 Grazie.